Sono Diego Acervis della Lass Helmets, vi presento l'ultimo casco creato in casa Lass che si tratta dell'Istreon, creato in queste tre colorazioni e è l'ultima novità nata in casa Lass proprio perché abbiamo voluto mantenere il design di quello che è la firma che la Lass vuole mantenere è un casco molto aggressivo, 23 fori di reazione la ventilazione interna è stata studiata nella Galleria del Vento e come regolazione abbiamo anche il senso occipitale per abbassare quello che è il fulcro e quindi nel test di scalzata risulta ottimo l'interno è al sistema in un pezzo unico con la retina anti-insetto e il sottogola morbido e il cinturino extra morbido